A Corato e duro appello di Domenico, figlio di Mario Pagliari, il balneatore ucciso nel 2008. Un furto è stato commesso ieri nella casa della madre in via Buozia Pescara, dove abitava con il padre Mario, il balneatore di 64 anni, freddato con due colpi di pistole, il 6 luglio del 2008, nel parco di Villa Deriseis, proprio di fronte al suo stabilimento balneare, da Michelangelo D'Agostino, un ex camorrista che all'epoca lavorava nel parco, come ha detto, alle pulizie, poi condannato all'ergassolo. Domenico Pagliari si rivolge anche ai ladri che hanno messo a segno il furto e dice ridatemi, almeno gli oggetti che mi ricordano papà. Sì, sicuramente hanno ucciso papà due volte, ma io più che altro faccio una riflessione un pochettino pesante. La colpa, la colpa è di questo Stato, è di questo Stato che mette in giro, perché questi delinguendi, a Pescara in Italia, non si può più vivere. Lo Stato ha ucciso mio padre dieci anni fa e ora l'ho ucciso un'altra volta. Adesso che venisse a vedere come sta mia mamma, come sta mia nonna, come siamo noi, la colpa è semplicemente dello Stato, perché invece di stare a pensare alle cavolate, alle stupide aggine, a assumere i tutor, che cominciasse a assumere 100.000, 200.000, 300.000 agendi, che cominciasse a far tornare l'esercito da fuori in Italia per difendere, perché non si può più vivere, ormai viviamo in uno Stato di paura, di paura. Io faccio un appello a questi delinguendi e tutto questo, non mi importa se vi siete rubati i soldi, se vi siete rubato l'oro o quanto altro, per favore riportateci gli oggetti a noi cari, perché erano l'unica cosa che ci è rimasto di papà. Stiamo soffrendo, per favore riportateci perché mia mamma sta veramente male, tutti quando siamo male abbiamo bisogno dei nostri oggetti, perché sono l'unica cosa che ci rimaneva di papà. Voi avete perso, lo sappiamo tutti, papà in un modo insomma tragico, ma con questo furto vi hanno rubato però i ricordi. Sì, infatti ci hanno rubato i ricordi, siamo tornati di nuovo a dieci anni fa, più che altro mia mamma è tornata dieci anni fa. Prima già mia mamma faceva difficoltà a tornare a vivere dentro casa, adesso proprio non ci tornerà più. Mio padre, tu pensi che mio padre è stato ucciso a Villa del Risis, in un parco dove questa giustizia, questi giudici avevano mandato un ergastolano in vigilanza a premio a fare il custode in un parco con dei bambini. Io oggi sul giornale stavo leggendo su una rivista che in Italia forse hanno fatto il carcere più bello d'Italia con piscina. Sì, diamogli tutte queste cose, diamogli. Gli arrabbiato e amareggiato Domenico che si rivolge agli abitanti della zona di Via Buozzi a pescare. Il furto è stato commesso ieri in pieno giorno. Se qualcuno ha visto qualcosa dice si rivolga alle forze dell'ordine.